Ciao a tutti, sono Alessandro e qui davanti a voi avete il MediaPad X1 da 7 pollici. Il nuovo super tablet o tablet di piccole dimensioni del colosso cinese che presenta caratteristiche estremamente interessanti, soprattutto perché abbiamo una cornice limitata di solo 30nm, un vero record, un peso assolutamente inferiore sia al Nexus 7.2 che all'iPad mini, però caratteristiche che si mantengono assolutamente alte. Abbiamo un processore quad core proprietario da 1.6 GHz, abbiamo un display da 7 pollici 1920x1200 pixel e Android per adesso ancora in versione Jelly Bean, ma ci hanno assicurato che arriverà KitKat a breve entro l'uscita. Inoltre abbiamo materiali metallici sulla parte posteriore, alluminio di buona fattura con questa cornice leggermente cromata. Poi abbiamo anche una fotocamera da 13 megapixel sul posteriore e una fotocamera, come ci ha spiegato la stessa Huawei, per effettuare i cosiddetti selfie da 5 megapixel anteriore, con un buon grand'angolo. Prezzo 399€, quindi assolutamente interessante e non sappiamo ancora bene quando arriverà sul mercato, ma non tra troppi mesi. Un saluto da Alessandro.